Ciao, sei passato in questo canale per caso? Mi presento, sono Pietro Fabrizio Navanta e ti conviene iscriverti perché in questo canale ci sono smantellamenti di cose, distruzioni di cose, modifiche al computer, upgrade, a volte unboxing, video informazioni, c'è di tutto quindi che tu sia italiano, che tu sia francese, che tu sei nuovo su Youtube, ti conviene iscriverti c'è anche un numero provvisorio in cui puoi contattarmi quindi se vuoi iscriviti perché ci sono cose pazze nel canale, cose molto pazze, cose che non vedete da nessuna parte tipo creazioni di USB, media creation tool, di Windows, cose illegali, di tutto mamma mangia me, tutto quanto, di tutto, tutto, tutto c'è di tutto in questo canale, di tutto i contenuti dai grandi ai piccoli, ai piccini di un mese, ai piccini di tre anni, ai piccini di quattro minuti e quindi ci sono dei tonti su questo canale quindi se ti iscrivi fai bene perché poi riceverai le mie notifiche e tutto si distruggerà, tutto, tutto il mondo pazzesce quando vedete i miei video ok ok ciao quindi ti convido di iscriverti se ti iscrivi, grazie se non ti iscrivi, fa nulla ciao